Ogni anno la stessa storia, iPhone di qua, iPhone di là ed ecco il solito miglior iPhone di sempre. Il numero 15 e io non lo volevo comprare, perlomeno non era nei miei piani. Io ho il 14 Pro Max e l'ho preso giusto un anno fa. È un bel telefono con una fotocamera veramente figa e no, non mi perderò in tecnicismi vari perché semplicemente questo iPhone va benissimo e il 15 per me non era preventivato. Insomma, non mi fa piacere spendere 1700 euro ogni anno e non mi fa piacere svalutare il mio vecchio smartphone che poi ha solo un anno e io l'ho tenuto in maniera maniacale. Però eccolo lì, l'iPhone 15 con una funzionalità che attendevo da tempo. In realtà non solo una, ma tre. Poche per 1700 euro di spesa. E la prima effettivamente non è nemmeno una funzionalità perché è l'USB-C. C'è da dire altro? Finalmente siamo tutti alla pari e posso buttare via tutti i cavetti Lightning che ho in giro per casa e aumentare pure la velocità di trasferimento. Io ho avuto il terrore per anni che mi si rompesse il cavo mentre ero fuori. La mia dolce metà è una convinta sostenitrice Android. Anche per questo dormiamo in letti separati, ma questa è un'altra storia. Scherzi a parte, non so perché, ma i cavi Lightning a me durano poco. Forse li maltratto, ma devo cambiare uno più o meno ogni 3-4 mesi. E mi si rovina sempre uno dei due lati, quello del connettore. La mattina mi sveglio e puntualmente c'è il telefono scarico. Comunque, USB-C è la via e anche se spero che questo non danneggi l'innovazione, occhio perché questo è un passaggio importante, perché effettivamente poi vietiamo che tutti creino roba innovativa, nuova, diversa, dovremmo essere tutti quanti standard, la mia pigrizia e la mia ansia hanno tirato un sospiro di sollievo. 3. Dicevo, questo è uno. La seconda è meramente professionale, ma vi anticipo che la terza vi sconvolgerà. No, questo non è un video per TikTok, è YouTube, quindi perdonatemi. Dicevo, la seconda è professionale, perché da poco ho deciso di non appesantirmi. Prima, la scarsa qualità dell'obiettivo, soprattutto in situazioni di poca luminosità, non mi faceva stare tranquillo. Io prendevo questo iPhone, andavo magari in un locale e si vedeva tutto quanto sgranato. E questi video, questi che facevo, non mi soddisfacevano. Così mi portavo la fotocamera dietro, un'altra fotocamera, un altro peso, eccetera, eccetera, altri file, altri attacchi dell'audio, altra roba da portare in giro. Beh, ultimamente ho capito che i video girati con iPhone non sono male, soprattutto quelli con l'ultimo modello, il 14 che avevo, perché hanno una buona luminosità all'interno dei locali. Possono quindi davvero essere un pretesto per registrare ovunque, tant'è che il video della crociera l'ho fatto direttamente con l'iPhone, il video Dubai l'ho fatto con l'iPhone. Tutto questo è bellissimo se non fosse per una cosa. I file. Non è tanto l'attesa del trasferimento, ma cazzo, i file dopo una settimana io sul mio iPhone li ho persi per sempre, perché non ho un Mac e non ho AirDrop, e io semplicemente, voi direte, ma perché non ti prendi un Mac? No, io li odio i Mac, a me fanno cacare i Mac, e quindi no, non avrò mai questa possibilità. E i file, quindi, quando utilizzo Windows, sono difficilissimi da ritrovare, soprattutto perché crea un marasma di cartelle improponibili, con dei nomi inutili e niente, non ce la faccio. Però adesso c'è la genialata, ora si possono collegare i dispositivi di memorizzazione esterni. E sì, lo so, fear, fear, Android c'è arrivata anni fa. Forse decenni. Ma io ci ho provato con Android, mi dovete credere. Alla fine arrivavo alla frutta, arrivavo a piangere di notte, a sognare l'ecosistema mobile di Apple. Questo splendido ecosistema. Non ci provare. Se passi da Apple a Android, secondo me ti trovi male. Se sei un convinto sostenitore, io dal 3S che ho iPhone, ho smesso dal 10, perché faceva cacare il 10, sono passato a Samsung, mi pare, sono durato un anno, nemmeno, e pregavo anche lì tutti i giorni di tornare da Apple. Occhio che vale pure il contrario. Vi spiego anche il perché. La mia metà, Android coin vinta, ci ha provato per ben tre mesi con Apple, uccidendomi lo scorrotto per tre quarti del tempo. No, ma Android è meglio di qua, che schifo sta roba di là, ma non posso fare questo così, non posso fare quello di lì. Ha ragione. Chi usa Apple a volte si complica la vita. Ma è indubbio che le app girino meglio su iPhone, e non su Android. Per il semplice fatto che esistono migliaia di dispositivi Android differenti, è Apple. Beh, l'avete capito. Tornando ai dispositivi esterni, oh, mi hanno fatto venire un'erezione professionale. Davvero. La sola idea che io possa fare dei video e contemporaneamente registrarli su un dispositivo esterno? Ah, la pigrizia. E poi, ultima, ma non ultima, i giochi AAA. Chiariamoci, io su iPhone non gioco da un sacco di tempo, ho perso il conto. Oggi preferisco la Switch, preferisco la Steam Deck, però sta per cambiare tutto, perché ora arriveranno i giochi AAA di ultimissima generazione, e il mondo del gaming, come lo conosciamo, secondo me andrà a cambiare. Ora, siccome Mario di QDSS è un altro sostenitore Android, ma solo perché ha la penna integrata, che fai? Ti perdi un argomento di tendenza? No, e allora mi devo sacrificare per la patria, e quindi che faccio? Faccio la mia run su Assassin's Creed su iPhone. Insomma, questi sono i motivi, ma una cosa mi sta davvero sul cazzo, e forse è il pretesto per cui ho fatto questo video. Ho speso, boh, 1700 euro pure l'anno scorso, appresso al mio iPhone 14 Pro Max, da un tera. L'ho preso perché al lancio, mi sono collegato 5 minuti e mezzo più tardi, e quindi mi sarebbe arrivato tipo a dicembre, l'iPhone, e ho deciso di prendere quello da un tera, perché arrivava primo. Probabilmente ne hanno venduti molto meno, e a ben guardare. Ora però, Apple mi dice questa cosa. Il mio iPhone vale 800 euro, anzi, per la precisione, 805 euro. Anni fa questa roba, Apple non la faceva, e il prezzo reggeva. Anzi, Apple, i dispositivi, li potevi rivendere bene. Adesso si fa autoconcorrenza. Se tu poi cacci degli ottimi dispositivi che hanno gli stessi chip, e soprattutto le versioni che non sono pro, le metti a un prezzo inferiore, tu quell'iPhone, perlomeno l'ultimo iPhone, il penultimo iPhone migliore di sempre, non lo rivenderai mai bene. Quindi, niente, un piccolo sfogo, e spero che gli spicci di YouTube almeno ammortizzi questa spesa. Fatemi sapere anche voi se prenderete l'iPhone, se la pensate come me, oppure no. Niente, sono arrabbiato, e a questo punto mi tengo l'iPhone, perché non vale la pena rivenderselo. Piuttosto lo regalo a qualcuno.